Nei giorni scorsi a Sant'Agata Libattiati la giunta guidata dal sindaco Carmelo Galati ha approvato un atto di indirizzo con cui conferma per il prossimo anno scolastico nel locale circolo didattico la refezione per la scuola dell'infanzia e il post scuola invece per quella primaria, scelta che l'amministrazione definisce necessaria, considerata la forte richiesta da parte delle famiglie nei giorni scorsi. La refezione per la scuola dell'infanzia ha un costo complessivo di 19.000 euro e le famiglie interessate al servizio dovranno comunque contribuire sobbarcandosi l'80% di ogni singolo pasto. 9.000 euro invece costa il servizio post scuola per la scuola primaria e gli utenti che vorranno usufruirne pagheranno una retta di 90 euro, valida per tutto l'anno scolastico.